Vogliamo essere figure di ripetimento e dare l'esempio alla prima cosa. Abbiamo fatto un nuovo impianto che non è stato facile, insomma, con l'unione di sforzi di tutti, ci siamo riusciti già da oggi con quei tassi. Stiamo rendendo bella la nostra curva con quella scritta. Dobbiamo stare tutti poveri qui, invece di stare a mare o a trovo che abbiamo dedicato il nostro tempo sotto il sole. L'abbiamo investito, quest'anno vogliamo che tutti quanti dobbiamo partecipare con tutto, tutta la curva. Chiediamo di stare tutti insieme e incitare il cuoccio, questa è la curva tutta, andiamo avanti. Altiamo le mani tutti ragazzi, tutti, 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 altiamoci ragazzi, forza. Tutti ragazzi sulle mani, tutti, 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 forza, riscaldiamo ancora la curva. Ok. Lo soldo perché, con tutta la pal Hasta. Cred'em potentiale, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Agime volcare, ma non sono per te, ho un'altra casa che è il re di poste. Oh, 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 oh... Adnos o' so bene, con tutti, giocamanti sale, sempre tuygosto sea tu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.